Anziani raggirati e derubati, cinque casi in due giorni, anziani presi di mira da gentaglia senza scrupoli, che spacciandosi per tecnici Enel, Gas o quant'altro, si fanno aprire la porta di casa e rubano, senza che i proprietari abbiano il tempo di accorgersene tutto ciò che di prezioso posseggono. Abbiamo dato più volte notizie nei nostri TG. Tre giorni fa stesso copione a Bassano, dove a una coppia di 75 e 78 anni, sono stati rubati 50.000 euro tra oro e soldi, che i finti messi avevano detto di mettere in frigo. E poi Rosà, Romano, Schio, il giorno seguente Montecchio, preciso il modus operandi e dalla polizia arriva un appello, l'ennesimo. Primo non aprire, chiamare subito il 113, se avete qualcuno fuori dalla porta che vi chiede di entrare, per qualsiasi motivo, può essere anche il delegato del sindaco che mi mostra una richiesta, voi chiamate il 113, noi interveniamo e verifichiamo, non c'è nessun problema, siamo qua per questo. Anche perché c'è gente, soprattutto gli anziani, che hanno perso tutto. Sì, questi furti qua, quando vengono commessi, sono gravi fatti, perché i ladri si prendono tutto, sono predoni e prendono tutto quello che c'è da prendere, dal denaro ai valori, qualsiasi cosa cara anche alle vittime. Adesso voi state continuando le indagini, che sono iniziate praticamente subito, solo che non è semplice riuscire a individuare queste persone, potrebbero essere già lontane. Probabilmente sì, però ci sono degli elementi e stiamo valutando tutto e adesso nei prossimi giorni speriamo di arrivare anche a qualche risultato. Grazie. Grazie. Grazie.